buonasera a tutti sono luigi e naracus e per evitare bentornati su optc scusate se non sono subito a portare la tm ma eccoci con il kizuna kessen contro kid tgc oggi affrontiamo il super boss primo team contro l'int unico suo support obbligatorio questo barto che non cattuazzoro post lancio della special o all'inizio del terzo round metto una barriere una riduzione del danno un qualcosa in quanto in questa fight dovremo stallare amico prendete shanks in questo caso utilizziamo il mio che ha uno di stats come potete notare e andiamo in realtà in questa round ho sbagliato qualcosa cioè gli faremo un botto di danni ma non è nulla in confronto a quello che faccio di solito deve aver invertito qualche attivazione di abilità secondo me deve aver invertito probabilmente ho fatto qualcosa di sbagliato però basterà ucciderlo allora turno 1 ammazzate tutti molto 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 easy ovviamente potete ammazzare tranquillamente turno 2 contro il nostro caro bandman si metterà la sua riduzione tutto quanto noi ce ne freghiamo perché stalliamo passate un turno mi beccate qualche dannino ma è finita la nulla di preoccupante la mer ci serve per aumentare i nostri hp darci il turno in più e tutto quanto come vedete possiamo tranquillamente andare avanti kid allora il caro caro kid si metterà un bel pochino di buff si metterà nel rage dobbiamo raggiungere un turno attivate zoro oppure nel caso attivato un support che vi riduca il danno che subirete per un turno in questo caso lo riduciamo di tantissimo e poi potremo stallare lui si metterà comunque altri buff in questo caso dato che abbiamo utilizzato il nuovo barto andiamo a fare almeno due perfect in quanto facendo almeno due perfect abbiamo poi un debuff al nemico che gli aumenti i danni di determinati colori asotuno si metterà un trishol damage reduction ma noi ce ne freghiamo si becca su debuff e iniziamo qua quello che penso aver sbagliato aver attivato robin adesso perché inizialmente va attivato prima shanks poi robin poi dovete attivare ecco sì ho capito dove ho sbagliato bisogna bisogna fare shanks robin special di cobi cambiate cobi come capitano adesso lo vedrete cambiate cobi come capitano special di g5 6 plus attivate la super special di cobi in modo da rimettere g5 6 plus attivo come leader attivate la super di g5 6 plus attivate la super di shanks attivate la special di versus yamato attivate di nuovo la special di shanks che potrete riattivare attivate il versus di yamato ora se fate come vedete nel video chiudete se avete la fi g5 plus abbastanza altino questo vuol dire che dovete avere in rush abbastanza altino in quel caso chiudete tranquillamente altrimenti potreste avere qualche piccolo problema io ce l'ho rush 3 o 4 infatti come vedete avendo sbagliato faccio praticamente 0 danno poi danno con shanks poi arriviamo qua nulla e poi infiniti danni tipo infiniti danni davvero una cosa imbarazzante comunque abbastanza semplice ho sbagliato l'ordine a quel punto purtroppo vi chiedo scusa ma si riesce a fare anche sbagliando l'ordine come vedete e andiamo a quello tech per quello tech andremo a giocare invece un fake g5 kaido magma io non ho amici che hanno kaido magma decente quindi lo andremo a giocare tutto quanto a free diciamo tra virgolette senza copia qua l'unico support che a mio avviso è quasi obbligatorio quasi ma si può interscambiare con varie sull'uffi g5 abbiamo bisogno di un pg che gli riduca di un turno il special countdown nell'ultima fase non è obbligatorio qua se non erro avevo lo avevo addirittura special 1 quindi non serviva nulla ridurre di uno il countdown in questo caso utilizzo questo lo che è vecchio come mio nonno se l'avete la cosa perfetta sarebbe utilizzare una nami sesto anniversario che io non ho che riuscite di ben 2 però ragazzi non si può tutto dalla vita ovviamente il mio cellulare continua a suonare e a fare brutti rumori quindi accontentatevi un pochino il resto del team sono tutte leggende abbastanza semplici più un free to play come vedete escluso fake g5 questo team più abbordabile abbiamo anche un bel boost di 1.1 quindi schifo non fa turno 1 come abbiamo fatto prima uccidete le tarte non vi serve stallare non vi serve fare nulla di particolare uccidete le tarte qua abbiamo subito la super special di entrambi pronte quindi non ci saranno problemi turno 2 zoro il caro zoro a resilience vi metterà di spare voi attivate la super di fake g5 e la special di fake g5 in questo modo potrete poi iniziando ad attaccare con un qualsiasi personaggio fare abbastanza danni nel momento in cui arriverete a kaido da poi farlo fuori con il danno over time di kaido molto 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 easy come se non basasse una volta finito questo come vedrete il vostro g5 ora in questo caso ah no ok l'avevo già portato su dicono male io il g5 sarà già pronto a lanciare la prossima special il caro kid vi metterà paralisi che verrà immediatamente tolta da g5 perché g5 può questo e altro partite attivando la special di 5 per la seconda volta effettuate lo switch con nami robin e attivate poi con nami robin con robin jimbe e poi attivate la special di robin jimbe attivate la special di ulti versione estiva attivate la special degli sweet commander special di kaido no scusate super di kaido special dei come cavolo di 3 calamità di kaido di nuovo special di g5 special di kaido e shottate abbastanza easy come potete notare anche qua questo team unico problema non è detto regga le difficoltà più alte cioè fino a un certo punto penso che può andar bene arrivate un pochino più in alto sarebbe meglio cambiarlo con un altro team grazie a tutti 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 grazie a tutti